Ciao a tutti. Questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda tutte le persone che mi scriveranno delle mail private per un consulto privato. Ad ogni consulto su richiesta e ripeto su richiesta se voi mi scriverete il vostro giorno di nascita e volete avere delle informazioni in più sul vostro giorno di nascita per quanto riguarda l'assonanza con i tarocchi, un consiglio, un pensiero del giorno. Insieme a questo libro io riuscirò, vedete qua c'è il giorno e il mese, riuscirò a darvi delle informazioni in più sulla vostra persona. Questo è un qualcosa in più che voglio regalare a tutte le persone che mi chiederanno un consulto privato e, come dicevo prima, mi diranno specificatamente che vogliono sapere qualcosa in più sul loro giorno di nascita. Bene, questo era un piccolo video di presentazione e adesso vi lascio al video del giorno. Ciao a tutti, piccola comunicazione di servizio. Prima che inizi il video di oggi, volevo semplicemente comunicare che da questo momento in poi i numeri da poter giocare per adesso al 10 e l'8 e poi quando si riprenderà all'8 verranno semplicemente dati a chi ne farà richiesta tramite indirizzo di posta elettronica. Mi descriverete che tipo di numeri volete per quale gioco e quanti ne volete. A chi fosse interessato li darò semplicemente a chi mi scriverà una e-mail per avere questo servizio. Io vi ringrazio e vi lascio al video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video interattivo nel canale di Morgana e le sue carte e io sono Morgana. Oggi andremo a fare un interattivo che porta come titolo Cosa prova realmente per me. È un video che si capisce subito che parla di sentimenti. Andremo a vedere la persona a cui stiamo pensando e a cui teniamo. Magari abbiamo conosciuto da poco che cosa prova realmente per voi. E ricordo sempre che questi sono dei video interattivi perciò sono dei video delle stese molto generali. Non sono delle stese personalizzate e perciò possono arrivare a tante persone ma possono anche non arrivare a tutte le situazioni e a tutte le sfaccettature delle relazioni. Perciò per chi non si ritrovasse nella stesa magari può cambiare variante e ascoltarne un'altra. Il video è sempre valido, sarà valido quando lo vedrete, sarà valido una settimana dopo, un mese dopo, un anno dopo perché sono video interattivi che non hanno una data ben precisa. Ricordo che per chi volesse approfondire una variante o volesse farmi qualche domanda specifica può scrivermi all'indirizzo di posta che trova nelle info e in sovraimpressione al video. Allora innanzitutto andiamo a prendere le energie per quanto riguarda la prima variante. Allora la variante 1 pietra rossa, variante 2 pietra blu, variante 3 pietra arancione. Se avete bisogno un pochino più di tempo portate indietro il video e mettete in pausa. Andiamo a vedere per quanto riguarda le energie della prima variante. Cosa prova realmente per me, per le ragazze della prima variante. Ricordo che i video sono dedicati sia alle femminucce che ai maschietti. Se ci sono dei maschietti che mi seguono, chiedo gentilmente di rivolgere tutto al contrario. Io parlo al femminile perché sono io che faccio la stesa e mi viene molto più comodo in questo modo. Cosa prova realmente per me? Vediamo la prima energia. Cosa ci dice? Sinfonia incompiuta. Sinfonia incompiuta ci parla di un qualcosa che non si è ancora completato. Di un qualcosa che ancora deve essere definito. Un qualcosa che diciamo, come si suol dire, è rimasto un po' in aria. Non è finito né per il sì e né per il no. E' come se siamo amici ma non siamo veramente amici e come se siamo una coppia ma non siamo veramente una coppia. Vediamo un po'. Il mondo. Grande successo. Sei libero di andare in qualsiasi direzione. Un pensiero, un percorso si completa. Anche qui abbiamo a che fare con una situazione che vuole un compimento, che vuole una definizione di sentimenti, vuole una completezza, vuole una realizzazione. Sicuramente la situazione che state vivendo non è una situazione che vi completa appieno. Vi sentite incomplete, vi sentite non del tutto nel pieno di questa relazione. Ecco, non riuscite a capire se siete in una relazione o no. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Anche qui è come se noi non sappiamo se ci sentiamo una fidanzata o se siamo single. Ecco perché la sinfonia incompiuta sicuramente si fa sentire. Vediamo. Qui abbiamo la torre. Perché la torre è un qualche cosa di distruttivo. La torre è un qualcosa che ha distrutto tutto quello che ci poteva essere. E allora diciamo che la sinfonia incompiuta potrebbe essere anche perché, diciamo, una relazione è andata a finire. Una relazione è finita completamente. E noi magari ancora ci sentiamo un po' storditi dalla fine di questa relazione. Ecco perché mi esce la sinfonia incompiuta ed il mondo. Perché il mondo potrebbe anche essere una situazione che volge al termine e siamo pronti per ricominciare. Perché non sempre, diciamo, la carta della torre è negativa. È negativa perché distrugge tutto quello che noi abbiamo costruito. Distrugge tutto ciò che di sicuro noi avevamo. Però è anche vero che una volta spazzate via le macerie di quello che si è distrutto, di quello che è andato distrutto, noi abbiamo molto più spazio per poter ricominciare. Ecco anche perché la carta dell'ottimismo per quanto riguarda la vita amorosa, perché sicuramente abbiamo passato una relazione abbastanza burrascosa che ha trovato il suo termine ed ecco che adesso ci possiamo affacciare ad un nuovo, ad una nuova relazione con magari un pochino più di fiducia e di ottimismo. Andiamo innanzitutto a prendere le due carte tematiche di questa stesa. Le carte tematiche sono lui e voi. E noi andremo a vedere cosa c'è in mezzo a voi, cioè cosa lui prova realmente per voi. Mi raccomando, concentratevi sulla persona di cui volete sapere la risposta alla domanda del video, e cioè cosa questa persona prova realmente per voi. Andiamo al taglio. E qui infatti come mi pronosticavano le energie, qua abbiamo una situazione di inizio, una situazione di cambiamento, perché c'è stato un taglio di una situazione passata che adesso ci porta ad un cambiamento di... Sicuramente allora, per la variante numero uno, questa è una storia magari appena iniziata, una conoscenza appena iniziata, una conoscenza appena avuta, e vogliamo capire che cosa prova per noi, perché ormai la relazione passata l'abbiamo, diciamo, esaurita completamente e magari abbiamo conosciuto qualcuno di nuovo. E vogliamo vedere se questo cambiamento, dopo questa, diciamo, falciata, dopo questa rottura, dopo la fine di questa nostra relazione, vogliamo sapere se questa conoscenza che abbiamo in questo momento instaurato anche da poco tempo, se realmente è qualcosa di concreto. Andiamo a vedere. Allora, quello che vi posso dire è che questa persona attualmente non si fa vedere realmente per quello che è. In che senso? Non mi esce una forma di falsità di questa persona, però mi escono dei dubbi, sia da parte vostra un po' di meno, perché voi, diciamo, lo avete già idealizzato, quest'uomo, lo avete già idealizzato come la persona perfetta che potrebbe andare bene per la vostra relazione. Però, c'è sempre un però. Il nostro però dove sta? Sta nel fatto che quest'uomo, di sicuro, anche lui avrà avuto un passato non troppo facile e lui ci va con i piedi di piombo. In che senso? Diciamo che la maschera è una una carta un po', diciamo, neutra. Neutra nel senso che se accompagnata da carte negative o positive, prende significati diversi. Qui non è accompagnata da una carta negativa, però è accompagnata da una carta un pochettino di dubbio, nel senso perché i ponti i ponti rappresentano, diciamo, come se i posti a cui noi vogliamo arrivare possono essere sia molto vicini ma anche molto lontani. Quest'uomo, in questo momento, è un pochettino distante dai vostri tipi di progetti. In che senso? Lui sta iniziando una conoscenza, sta iniziando una... Aspettate che adesso vi spiego per bene. Allora, quest'uomo di sicuro non ha avuto un buon passato. Ha avuto un passato con una donna che sicuramente lo ha tradito. Ecco perché per il futuro lui vuol prima conoscere molto ma molto bene la nuova donna che ha davanti. Di sicuro quest'uomo se riesce a percepire, se riesce a rendersi conto che la donna che ha davanti è una donna realmente affidabile, realmente saggia, realmente come lui si aspetta, ecco che sicuramente ci sarà una bella e solita relazione. Quello che vi voglio dire lui è che tutte e due avete passato una storia precedente un pochettino tempestosa. Questo che cosa mi sta a significare? Che voi siete molto più propensa ad avere una una nuova storia. È come se voi finita la relazione che non è andata bene vi buttate subito a capofitto in un'altra non facendo attenzione prima a come potrebbe essere la nuova persona ma voi siete quei classici tipi che lo vedete in corso d'opera se la persona va bene. Quest'uomo invece no. Quest'uomo è come se dietro la sua maschera vi sta studiando vi sta studiando perché vuole realmente capire che tipo di donna siete se siete la donna che fa per lui perché anche perché ha ancora dei contatti con la sua diciamo la sua prima relazione ancora ha dei contatti che lo portano ancora ad avere degli stracci della relazione passata sicuramente semplicemente a livello di conversazione magari non lo so avevano un'attività insieme oppure avevano delle cose in comune e loro devono cercare di di sbrigare queste situazioni prima di essere completamente liberi sicuramente la relazione precedente di quest'uomo lo ha segnato particolarmente e perciò lui adesso è molto diffidente nei confronti diciamo delle donne è molto diffidente perché ha sempre paura di ritrovarsi di nuovo con lo stesso tipo di donna infatti qui abbiamo un una persona che che sicuramente sì è vero che ha dato è vero che ha messo fine al suo rapporto precedente però sicuramente adesso vuole qualcosa di più adesso vuole qualcosa di molto più di molto più vero di molto più sentito sicuramente in questo momento lui vuole uscire proprio vincitore da questa nuova relazione vuole fare un lavoro metodico vuole fare un lavoro molto di prudenza per non incappare di nuovo nella stessa situazione di prima perciò quello che vi posso dire io è che lui si prova qualcosa per voi si lui ha intenzione di magari costruire qualcosa con voi ma prima deve essere sicuro della persona che ha davanti perché non vuole incappare di nuovo in una relazione come quella che ha avuto in precedenza bene adesso andiamo a fare la variante numero 2 per chi ha scelto la pietra blu vediamo cosa prova realmente per voi per le ragazze della seconda variante vediamo tagliar legna allora tagliar legna è una carta diciamo potrebbe potrebbe secondo voi significare una determinata cosa e invece no allora tagliar legna significa che noi dobbiamo concentrarci più che altro sul quotidiano ecco un pochino diciamo lasciare andare le situazioni che ci premono troppo perché certe volte le situazioni molto impegnative le situazioni molto pesanti hanno bisogno di un loro decorso naturale senza la nostra intromissione ciò che significa di magari lasciare andare un pochino quello che a noi preme veramente in modo che la storia possa fare il suo corso naturale senza intromissioni e impegnarci diciamo nel quotidiano nelle cose banali questo dà spazio alla situazione di evolversi il più naturalmente possibile tre d'estate buone notizie per cui festeggiare annunci importanti come matrimoni lauree e nascite amici che ti stanno a cuore perciò qua abbiamo qualcosa da festeggiare qualcosa da festeggiare sicuramente l'andare avanti della situazione in modo naturale sicuramente porterà molte più molta più positività nella storia rispetto a una nostra magari intromissione continua dai una possibilità una possibilità alla tua relazione lavora sulla coppia lavora sulla coppia però c'è anche il tagliar legna vediamo un po' cosa ci dice l'altro arcano perché sono diciamo un pochino due situazioni due carte che ci dicono due cose diverse di nuovo la torre di nuovo la torre posso presumere che qui quello che andava per il verso giusto a un certo punto non è andato più per come doveva vediamo adesso cosa ci dice la stesa quali carte ci portano da lui verso di voi vediamo cosa esce al taglio ma qui mi porta una una bella situazione mi porta diciamo qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo che arriva un cambiamento positivo un cambiamento repentino e positivo un cambiamento che non è dovuto alla vostra volontà non è dovuto alla vostra intromissione ma è un un cambiamento positivo che arriva inaspettatamente perciò potrebbe essere qualcosa di drastico che arriva che in un primo momento magari sembra drastico sembra rovinoso e invece potrebbe rivelarsi la vostra fortuna vediamo un po' eh ma qui che cosa significa qui cioè quello che mi stanno dicendo queste carte è una cosa incredibile allora allora qui in questa situazione mie care io non vorrei dirlo ma le carte mi diciamo fanno presente che voi avete scoperto qualche cosa che non vi aspettavate cioè io vi faccio vedere queste due carte e poi comincio a parlare perché alcune cose non le voglio dire in video però vi faccio vedere queste due carte e poi continuo a parlare allora sicuramente voi avevate degli sospetti avevate delle situazioni un pochettino che vedevate delle situazioni un pochettino strane chiamiamole così e siete andate in profondità perché c'era qualcosa nella vostra casa che a voi non vi quadrava qualche voce qualche pettegolezzo qualcosa detta in un certo modo vi ha portato a scavare a scavare più in profondità di quello che si vede alla superficie e siete riuscite a gettare la maschera di questo ci siamo capite vero? ci siamo veramente capite esatto esatto ed esatto allora che cosa vi devo dire che cosa prova realmente per voi per voi non prova niente prova qualcosa per qualcun altro ed è una situazione che loro vivono come un vero e proprio e puro sentimento voi è da parecchio tempo che avete questa sensazione voi è da parecchio tempo che avete capito e avevate capito che nella vostra casa c'era un segreto che ancora non veniva svelato ecco perché vi siete messe a caccia si può dire a caccia di informazioni a caccia di qualcosa di nascosto qualcosa di non detto avete proprio preso la lente di ingrandimento e siete andate proprio a cercare in fondo per riuscire a non mi era mai successo fino a questo momento di avere una variante così però le carte quello che mi dicono io vi devo dire cosa prova realmente per voi per voi in questo momento non prova niente ecco perché la torre ecco perché mi è uscita la torre e poi mi è uscita anche la bara perché voi sicuramente avete capito qualcosa avete provato anche a dare una possibilità alla coppia però di fondo avete anche capito che il vostro compagno vostro marito chi che sia la persona che vi piaceva sicuramente per voi non provava niente però non trovavate la giustificazione perché magari non trovavate nessun nome femminile che potesse allacciarsi alla vita del vostro uomo e sicuramente avevate una certa una certa stabilità una certa stabilità perché eravate sicuri voi eravate sicure che questa persona non avesse nessun'altra donna però vi siete anche rese conto che la situazione non era per come doveva essere e perciò vi siete anche rese conto che c'era qualcosa che non andava qualcosa che non andava che vi ha portato a scavare più in profondità come ripeto questo scavare in profondità vi ha fatto scoprire quello che c'era sotto vi ha fatto capire realmente vi ha dato l'energia e lo stimolo per avere la la forza e la sicurezza di capire realmente magari qualcosa che voi non volevate accettare la cosa che non volevate accettare è che la persona di cui volete sapere se realmente prova qualcosa per voi non prova niente per voi ma prova qualcosa per un'altra persona come lui e perciò di fatto vi siete rimboccate le maniche e avete scoperto diciamo questo bel altarino perciò che cosa vi devo dire avete fatto bene sicuramente la decisione che voi prenderete perché voi prenderete la decisione proprio di troncare completamente di dare la fine a questa a questa relazione come dice la torre come dice la bara però devo dire che sicuramente fra di voi c'era proprio un si può dire posso dire chiaramente un matrimonio e sicuramente voi questo matrimonio lo andrete a sciogliere perché è logico che non può stare in piedi un matrimonio questi presupposti perciò cosa prova realmente per voi ormai voi lo sapete non c'è bisogno che ve lo dica io benissimo andiamo a fare l'ultima variante cosa prova realmente per le ragazze della terza variante la persona cosa prova realmente per le ragazze della terza variante vediamo un po' cosa mi dicono gli oracoli casa casa dolce casa sicuramente è una persona che sta bene nel proprio ambiente sta bene con se stesso è una persona diciamo qua mi parla di autenticità stare bene nella propria pelle stare bene con se stessi e adesso dobbiamo capire se è uno stare bene con se stessi da parte dell'altra persona o anche da parte vostra perché magari di fondo sì volete sapere cosa prova realmente per voi ma anche se non dovesse provare niente di di concreto niente di autentico a voi non è che vi tange più di tanto perché voi state bene con voi stesse l'imperatrice l'imperatrice è il momento di agire potere alla creatività il successo ti porterà una vita prospera e confortevole allora questo è dedicato a voi voi che di fondo sì volete sapere cosa prova per voi ma anche se non dovesse essere l'amore della vostra vita di sicuro a voi non non vi sconvolge più di tanto perché siete una donna che sta bene con se stessa sta bene nel luogo dove abita sa quel che vuole al suo lavoro alle sue amicizie è una donna che sa creare anche da sé esprimi il tuo amore vai avanti così e compie un gesto romantico sì potrebbe anche essere che voi magari date l'input a questa persona per capire se realmente prova qualcosa per voi ma come vi ripeto non è la priorità della vostra vita ecco vediamo un po' il giudizio infatti qualsiasi sia il tipo di giudizio che verrà fuori da questa stesa a voi non non vi cambierà diciamo più di tanto la situazione attuale perché l'imperatrice è una donna che sa quel che vuole sa creare sa gestire la sua vita benissimo da sola sì magari potrebbe esprimere diciamo una certa simpatia per qualcuno ma se va bene se non va no e qui abbiamo che voi già avete una certa comunicazione con con quest'uomo quest'uomo vi ha già fatto capire delle determinate cose vi ha già cercato di contattare vi sentite è o diciamo un qualcosa di almeno dal taglio sembra un qualcosa di puro un qualcosa di di genuino che lui prova per voi però c'è anche un però usciamo subito le carte perché allora quello che vi posso dire è che quest'uomo secondo me è già un uomo impegnato è già un uomo che ha una relazione è un uomo impegnato che però vi ha conosciuto e vorrebbe con voi instaurare qualcosa di di importante in che senso quest'uomo è già impegnato però diciamo che non vede il suo destino con la donna con cui sta attualmente perché in questo momento sta avendo dei dubbi sulla relazione che ha con questa donna quando conosce voi quando voi arrivate nella sua vita lui vi vede come il classico colpo di fortuna come il classico colpo di fulmine questo dove lo porta lo porta sicuramente a pensare alla fine completa alla fine completa della relazione con la prima donna e vuole cambiare completamente la sua vita vuole sicuramente dare un taglio al rapporto che ha con la sua compagna con sua moglie con la sua fidanzata e vuole un cambiamento che vi porta verso di voi ma lui verso di voi vuole un cambiamento che sia duraturo vuole un cambiamento che sia stabile vuole il cambiamento che sia il cambiamento della sua vita ora non so io per come sono uscite le energie se voi siete una donna che riesce a stare e che vuole una una relazione veramente come si suol dire non vera ma vuole una relazione duratura vuole un impegno definitivo perché voi siete una donna troppo sicura di sé e una donna siete una donna che sa stare benissimo da sola perciò non credo che quest'uomo lasciando la sua compagna precedente trovi in voi quello che realmente sta cercando perché lui chiudendo questa relazione con questa donna che sicuramente lo farà vuole trovare in voi la donna dei suoi sogni è come se voi per lui siete la donna dei sogni però io non vedo che voi avete la stessa mentalità lo stesso modo di pensare suo perché voi siete una donna un po' diversa siete una donna che ama diciamo la sua libertà vi piace stare in compagnia vi piace stare con gli amici avere anche una relazione ma una relazione non è un matrimonio lui invece no lui vuole completamente chiudere questa storia con la vecchia diciamo con la donna che ha a fianco e vorrebbe un cambiamento duraturo con voi però esatto lui vuole un nuovo inizio lui vuole un nuovo inizio e vuole un perché quello che ha in questo momento non lo soddisfa assolutissimamente lui vuole un qualcosa più di stabile vuole un qualcosa di stabile e sta cercando in tutti i modi di accelerare questa come si dice questa rottura con con questa donna che ha che precedentemente ha questa relazione con lui perché vuole buttarsi allo sbaraglio con voi vuole iniziare una nuova relazione è insoddisfatto di questa relazione che lui ha con con questa con questa donna però è anche vero che non è detto che voi abbiate le stesse intenzioni assolutissimamente perché lui vorrebbe un qualche cosa come dico come ho detto prima di di duraturo con voi è come se lui vi ha idealizzato però secondo me vi ha troppo idealizzato perciò se voi mi chiedete lui cosa prova realmente per voi io dico che lui sta arrivando verso di voi sta facendo di tutto per arrivare a voi però sta facendo di tutto per arrivare a voi perché lui vuole qualcosa di stabile di duraturo che con la prima relazione non ha potuto avere non ha trovato più che altro non ha potuto avere non ha trovato però io non so fino a che punto voi siete della stessa sua idea perché sia a voi piace a voi piace il tipo di uomo a voi piace il modo di fare però non sono sicura che voi avete la stessa idea di relazione la stessa idea di coppia che abbia lui perciò se volete sapere semplicemente cosa prova realmente per voi sicuramente sta facendo di tutto per arrivare a voi bene eccoci giunti alla fine di questo video io vi ringrazio di averlo visto tutto se vi è piaciuto il video e se vi piace l'argomento lasciatemi un pollice in su affinché io lo possa riproporre in modo magari periodico per chi volesse approfondire una variante o volesse farmi qualche domanda può scrivermi all'indirizzo di posta che trova nelle info e in sovraimpressione io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video vi ringrazio